Se avete amici a cena e delle pesche belle mature, questo è un dolce che fa veramente per voi. Sono Pam e questo è il mio canale, sana, veloce e vegetariana. Preparo la base frullando dei biscotti. Io ho usato il digestive, ma potete usare quelli che preferite, basta che siano secchi. Li devo ridurre a farina. Verso nel pentolino la bevanda vegetale all'avena e l'agar agar, rimestando per almeno 3 minuti. Continuando a girare porto all'ebollizione e raggiuntala tolgo dal fuoco per poi rimettercelo, sempre continuando a girare. Ripeto questa sequenza 3 volte. Allo yogurt unisco lo zucchero e mescolo. Deve diventare completamente omogeneo. Poco per volta unisco la bevanda vegetale con l'agar agar e la cremina è pronta. Adesso la devo mettere a raffreddare. Queste sono due pesche molto mature che pelo. Taglio a pezzetti, metto sul fuoco, aggiungo la cannella e rimesto molto velocemente. Aggiungo un goccino di acqua, 10 grammi. Due cucchiai di sciroppo d'acero e faccio cuocere per 4 minuti, non di più. Pesche, cannella, zucchero e frullo. Creo la base con la farina di biscotti che è compatto con un cucchiaio. Aggiungo la crema di yogurt e per ultimo la frutta frullata. Devono riposare in frigorifero per almeno un'ora.